Ma avete visto con quanta passione mi occupo dei temi della difesa? Perché volete mandarmi via di lì? A lei vi spiacerebbe, non farevi piacere? Queste cose non si dicono mai perché il Ministero degli Ester è un ministero importantissimo, ci mancherebbe. Però sono tanti anni che mi occupo di difesa, non mai pensavo di riuscire a fare il ministro, l'ho fatto. È un tema che seguo da tempo, che conosco e francamente mi piace. Sto facendo con attenzione questo lavoro, quindi non sto pensando a nessun altro incarico. Però certo non riuscirebbe a dire di no nel caso. No, queste sono questioni che vedremo, ma non ci sono domande a riguardo.